Ciao a tutti ragazzi, sono RamDeadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi sono appena usciti i primi spoiler del capitolo 1127 di One Piece, vi dirò già da ora ragazzi che la prossima settimana non ci sarà il capitolo, vabbè questo l'avevamo pressoché capito perché comunque ragazzi ogni tre capitoli di solito quando siamo fortunati il maestro Oda si prende una piccola pausa. Quindi andiamo a vedere che cosa succede questa settimana in One Piece, ma prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare il lavoro che faccio qui su Youtube e vi ricordo anche di seguirmi sui vari social, il canale Telegram per essere sempre aggiornati sul mondo di One Piece e sull'uscita dei video. Detto questo ragazzi andiamo a vedere che cosa succede questa settimana in One Piece, allacciatevi le cinture che si parte. Il capitolo 1127 si chiamerà Avventura nel Regno Misterioso. Nella cover vediamo Yamato che incontra i Nuarashi, quindi vediamo una faccia molto conosciuta per quanto riguarda l'avventura di Yamato. Intanto continuiamo con l'avventura di Nami che si era risvegliata nella stanza di Lego e infatti si trova in un castello costruito interamente di Lego, ragazzi. L'avevamo già visto tra gli Inz ed è confermato. Quindi questo castello poi è fatto anche con delle piante fatte di Lego e si trova ovviamente ad Elbaf. Lei inizia a scappare da insetti enormi, ragazzi, e incontra anche Usopp che sta venendo attaccato invece da un gatto gigante. Entrambi si incontrano, iniziano a scappare, ma attenzione perché questo gatto si trasforma in un leone gigante, ragazzi, e inizia ad attaccare di nuovo Nami ed Usopp. Proprio quando stanno per essere attaccati, quando non c'è più speranza, arrivano Luffy, Zoro e Sanji che insieme, ragazzi, fanno un attacco combinato e sconfiggono il leone. Il capitolo finisce con tutta la squadra, quindi Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji che si riuniscono e sono tutti quanti vestiti con abiti vichinghi e ovviamente sono tutti quanti pronti per scappare da questo castello fatto di Lego. Ragazzi, gli spoiler finiscono qui per il momento, vediamo che cosa succederà poi con gli spoiler completi. Intanto vi aspetto nei commenti e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ciao!